Non troppi gol, ma comunque tante emozioni e diverse sorprese nel secondo turno di campionato in Serie D. L'unico match finito con entrambe le squadre in gol è infatti stato quello che ha visto il Casarano scivolare sul campo della Cerrana. Ospiti avanti già dopo un quarto d'ora con Ferrara, ma i padroni di casa riescono a trovare la rete che vale l'1-1 grazie alla ringe. E' uno stop inatteso quello dei Salentini, che nelle battute finali dell'incontro perdono anche lo iodice espulso per proteste. Il fantasista barese sarà costretto a saltare il derby del Tursi con il Martina, che intanto riscatta la sconfitta con il Gravina vincendo senza problemi ad Ischia. Decisivi i gol di Silvestro, Cafagna e Lamonica, realizzati tutti nel secondo tempo. In cima alla classifica, a punteggio pieno, ci sono soltanto tre squadre e solo una di queste pugliese. Parliamo della Virtus Francavilla, capace di imporsi di misura in casa di un Francavilla Insigni, che continua a manifestare non pochi problemi con la propria fase offensiva. Match winner di giornata Nicola Pinto. A punteggio pieno, in compagnia degli Imperiali, ci sono Nocerina e Palmese. I primi hanno superato 4-0 il Costa da Malfi in trasferta, con i costieri che restano inchiodati a quota 0 punti. I secondi hanno invece battuto il Gravina Matera. I geloblum urgiani si sono infatti arresi per 2-0. Un gol per tempo per i campani. Orefice apre le marcature e l'ex Taranto Santarpia firma il raddoppio. Durissimo cappò per il Nardò, che dopo il successo esterno della prima giornata torna a subire una goleada tra le muramiche del Giovanni Paolo II. Dopo il 6-1 di Coppa per mano della Fidelisandria, anche il Matera riesce ad espugnare con facilità l'impianto Granata. Il primo a segnare Citro, mentre il raddoppio è a cura del giovane Scuola Lazio Luca Napolitano. Nel secondo tempo l'ex russo Calailtris e Casiello chiude la contesa con il 4-0 finale. Un risultato difficile da digerire per il toro di Mister De Sanso. Muove la classifica con il primo punticino del proprio percorso in serie di Lugento, che a Gallipoli però non va oltre lo 0-0 con l'Angri. E' lo stesso risultato del big match di giornata con Fidelisandria e Brindisi, che però si annullano e chiudono il derby senza né vincitori né vinti e a reti inviolate. Secondo pareggio di fila per i Federiciani, primo punto conquistato invece dagli Adriatici, che restano ultimi a meno 11. Prima vittoria anche per il Manfredonia, che batte il Fasano grazie al gol al 14esimo del classe 2005 Alessio Porzio.